Se tu avessi la pistola in mano e lui nel fodero, vincerebbe King. L'unica possibilità è sparargli alle spalle. Si trova vicino al confine messicano. Deve uccidere Benson. Deve. Lui è un mio fido. Se io gli dico sacrificati, lui lo fa. Ma quell'altro, quello è una bestia. Presto inseguitelo. Tu sei in arresto. Non vorrai disturbare i piccioncini, vero? No, naturalmente. George! Maggiore Erickson, gli ordini che le ho presentato le impongono di darmi l'assistenza per l'arresto degli uomini che le indicherò. E il primo nome è John Marley. Sei mitragliatrici, Gatling. Signor King, con queste armi spazzerò via i soldati blu che tu hai gentilmente chiamato. Va bene. L'ho violentata. L'urido armi! No, no, organizziamo una battuta e li prendiamo. Ti ringrazio. Ma è affar mio. Il grande King legato come un salame. Ceriffo, non ce l'abbiamo con te. Manda fuori quel bastardo e ti lasceremo in pace. No, non ce l'abbiamo con te, non ce l'abbiamo con te.